Al Via, in Abruzzo, la vaccinazione anti-Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni. Ogni ASL abruzzese dovrà realizzare percorsi dedicati e più piccoli all'interno degli hub esistenti, dove saranno presenti anche i pediatri. La cosa importante è che ci siano spazi dedicati, quindi non promiscuità con le vaccinazioni di mastra, chiamiamo così. Per cui ogni ASL si è organizzata, chi nei Siesp, chi all'interno degli hub, chi all'interno dei distretti sanitari, ma comunque tutti i percorsi dedicati. La platea da vaccinare sono circa 71.000 giovani tra i 5 agli 11 anni. Il tipo di vaccino è il Pfizer, però ha dotaggi ovviamente più bassi. Si parte domani, già dalle 8 alle 20 di stasera si potrà prenotare, quindi è obbligatore la prenotazione. Si prenota e poi c'è stato il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta. Quindi ci saranno i pediatri a vaccinare a questa categoria, perché essendo una categoria delicata anche per l'età, ti parte dai bimbi più vulnerabili, quindi quelli che hanno delle patologie, e poi da bimbi che vivono con pazienti immunodepressi. Che rassicurazioni date ai genitori? Io dico questo, che oggi la vaccinazione è una vaccinazione che oramai ha superato davvero tante prove. Sono stati vaccinati milioni e milioni di persone. Sono stati vaccinati anche ragazzi dai 12 anni in su. Per cui adesso si scende di un minimo di età, ma con un vaccino, ripeto, che ha subito tutti i controlli dovuti, diciamo, secondo quelli che sono poi i passaggi che un vaccino deve fare per essere poi messo in commercio. Quindi, diciamo, mi sento di tranquillizzare tutti i cittadini, soprattutto mi sento di indicare la vaccinazione, anche perché si cominciano a vedere alcuni casi di ricoveri di bimbi di 9-10 anni, che magari hanno anche altre patologie. Però, insomma, ecco, ripeto, così come facciamo tanti vaccini ai nostri figli, io credo che sia opportuno fare anche questo tipo di vaccinazione, considerando che, secondo alcuni studi, questa vaccinazione continuerà anche nei prossimi anni. Per cui, insomma, se riusciamo a dare fin da adesso un'immunizzazione importante.